L'anima gemella Mi aiuta Ciao, sono Valeria Sono single perché amo me stessa più degli altri Io Raúl singolo perché siamo in un momento che è molto difficile incontrare a qualcuno La generazione di oggi, tutto il mondo, vuole vivere, vuole vedere cose nuove La gente non vuole essere così È un momento molto difficile di incontrare a qualcuno La Ludovica, single perché amo me stessa e mi basto così come sono e non ho bisogno di un uomo per sentirmi completa Salve, sono Giuseppe e sono single per scelta e sono abbastanza felice di essere così Bianca, single, principe azzurro cercasi Ilaria, single e sono single perché nella mia vita ho trovato solo persone un po' immature Chiara, single, non sono fidanzata perché penso che noi siamo attratti da ciò che purtroppo non ci fa stare bene Sono Elisa, mi chiamo Elisa, sono single e semplicemente perché in questo momento non c'è nessuno che mi interessa Nonna Alina, single per voler del Signore Ciao, sono Alessandra e sono single perché non ho trovato ancora il mio vero amore Giovanna, sono da sola e sono bene così con i miei tre figli Io single, io nome Amir, io cercando bella ragazza per Napolitano E passato San Valentino, tirano un sospiro di sollievo tutti quelli che di sdolcinate e romanticherie non ne vogliono proprio sapere Salutiamo la trilogia dei sentimenti di febbraio con gli amici single Con chi si gode la libertà e chi invece la subisce Con chi aspetta l'anima gemella e chi non ne vuole proprio sapere A tutti, ma proprio a tutti Auguriamo di non dimenticare mai che l'amore è una cosa meravigliosa